Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video nel quale voglio presentarvi il nuovo funnel che ho costruito in Cartra. Si tratta del Free Plus Shipping Funnel, ovvero cosa significa? Significa la possibilità di avere un funnel nel quale andate a costruire una lista non soltanto di leads, di contatti che vanno ad esempio a scaricare la vostra risorsa gratuita, ma la possibilità di costruire una lista di clienti, cioè di persone che già fanno un pagamento all'interno del vostro funnel, quindi già si qualificano come clienti paganti e non soltanto come leads, quindi sono dei contatti un po' più interessanti, più caldi, sfruttando appunto la strategia del dare in regalo un libro cartaceo facendo pagare solo le spese di spedizione. Questa è una strategia che diciamo si è diffusa tanto grazie a Russell Branson e i suoi vari libri inerenti all'online marketing, come ad esempio anche questo qui, ce ne sono diversi, strategia che poi è stata presa da diversi imprenditori online, tutti si sono messi a seguire questa strategia perché è una strategia che funziona, perché comunque il momento in cui io do a una persona gratis un prodotto cartaceo, viene percepito davvero con qualcosa di grande valore, e il libro sappiamo che dà molta autorevolezza a chiunque lo va a pubblicare e a diffondere. Quindi in questo caso si fanno pagare solo le spese di spedizione, è in sostanza un funnel costruito quindi non tanto per fare cassa, ma per rientrare dei costi principali, quindi magari gestendo un attimino le spese di spedizione, e cercare quindi più che altro di costruire una lista di clienti paganti, quindi non soltanto persone che cercano l'ebook gratuito o robe simili. Questo funnel ovviamente si presta a diverse personalizzazioni, nel senso che se non vuoi scrivere il tuo libro cartaceo, ti ricordo che puoi farlo fare a dei ghostwriter, quindi non c'è bisogno che tu scriva direttamente il tuo libro, ci sono varie strategie per far scrivere ad altri il tuo libro cartaceo, infatti la maggior parte di questi autori spesso fanno scrivere ad altri questi libri, puoi anche valutare altre alternative, quindi regalare un DVD col tuo videocorso, o un qualsiasi cosa che possa essere percepito come un elemento di valore che tu vai a dare gratuitamente facendo pagare solo le spese di spedizione. Per di più in questo funnel ho anche inserito, l'ho impostato in carta in maniera tale che ci sia anche un'offerta BAMP, che dopo vi faccio vedere, che è molto utile per alzare il valore medio del carrello, collegato a un'area membri, un'area membri nella quale ho ipotizzato come offerta BAMP la possibilità di dare la versione audio del proprio libro ai propri clienti. Vediamo un po' all'anteprima di questo funnel, c'è un indice con dei link che rimandano alle varie sezioni di questa pagina. La pagina è comunque principalmente caratterizzata da questa call to action, quindi l'idea di andare a acquistare, a ordinare il libro. Quindi si presenta in questa tipologia di check-out, un check-out a due step, in cui non andiamo a presentare subito il totale delle spese di spedizione, ma iniziamo a far compilare i dati al nostro contatto. Quindi se io inizio a compilare questa parte, quindi giusto per farvi vedere il seguito del funnel, compilo il cap, quindi se io clicco su continua, dopo la fatturazione mi viene chiesto i dati di spedizione, posso anche utilizzare questo pulsante per copiare direttamente gli stessi dettagli di fatturazione come indirizzo, posso cliccare su continua, a questo punto come vedi ho settato la spedizione in maniera tale che sia di 5 euro se la spedizione avviene in Italia, oppure se seleziono un paese estero c'è un'altra spesa, che adesso non mi ricordo, vediamo 10 euro. Comunque sono tutte cose che puoi settare direttamente tu, personalizzare all'interno del tuo account di carta. Poi una volta che io clicco continua, prima di inserire i dati della carta di credito, ho creato questa bump offer, una bump offer a 27 euro, che serve ad alzare il valore medio del proprio carrello, quindi che porta il mio carrello a 32 euro, quindi coloro che vogliono accedere anche agli estratti audio del tuo libro, possono cliccare questa bump offer e acquistare il prodotto. Poi ho già collegato io in carta, in maniera tale che chi acquista questa bump offer ha accesso all'area membri, che hai sempre in regalo con questo funnel, nelle quali possono accedere appunto agli audio che hanno acquistato. Quindi un funnel davvero molto potente, che ti consiglio davvero di sfruttare. Questo funnel ha un costo, dopo ti faccio vedere, l'ho pubblicato nel marketplace di Cartra, costa 97 euro, tuttavia per i miei affiliati in Cartra è gratuito, quindi se sei un mio affiliato in Cartra, puoi già contattarmi se vuoi avere la clonazione di questo funnel nel tuo account di Cartra. Se non sei mio affiliato, puoi diventarlo e ottenere questo funnel ed altri bonus in regalo, come mio affiliato in Cartra. Ti ricordo che il costo di Cartra se acquisti Cartra dal mio link di affiliazione è identico al costo che sostieni se acquisti Cartra dal sito ufficiale, la differenza che ottieni appunto i miei bonus in regalo utilizzando il mio link di affiliazione. In particolar modo ti metto un link qui sotto in cui accedi a questa pagina, questa pagina ti ricorda un po' quelli che sono i bonus che ottieni da me se utilizzi Cartra con il mio link di affiliazione, quindi ottieni tutti i miei funnel pronti all'uso, clonabili nel tuo account, quindi valore ampiamente superiore ai 1000 euro, poi la mia area membri con tutti i miei tutorial su Cartra in italiano che ti insegnano ad utilizzare Cartra, poi se utilizzi, se acquisti un piano annuale di Cartra risparmi il 25% e ottieni un altro bonus a scelta che può essere o se hai dei funnel su altre piattaforme ti aiuto un po' a migrarli in Cartra oppure in alternativa puoi ottenere il mio corso su Facebook Ads, Facebook Ads Ninja in regalo se acquisti un piano annuale. Ho aggiunto nel caso in cui stai vedendo per la prima volta questa pagina un super bonus a tempo limitato, quindi per evitare che le persone vadano a procrastinare una scelta che può essere davvero utile per i propri business, cioè la scelta di iniziare a testare Cartra, per coloro che attivano Cartra con la prova a un dollaro per 14 giorni, prima che questo countdown arrivi a zero, quindi per un tempo limitatissimo, basta attivare la prova a un dollaro per ottenere l'accesso ai primi 5 moduli del corso Facebook Ads Ninja, quindi valore 397 euro, che è un extra bonus in regalo subito dopo che hai appunto attivato la prova a un dollaro. Quindi basta mandarmi un'email dopo che hai fatto l'attivazione e vado a darti l'accesso ai primi 5 moduli del corso Facebook Ads Ninja. Ti faccio vedere un po' l'area membri di Cartra con tutti i miei tutorials a cui hai accesso come mio affiliato, quindi hai tutti i video divisi per categoria, cercando di rispettare le categorie di Cartra in modo tale che per ogni categoria di Cartra trovi tutti i video di formazione. Per di più ti faccio vedere tra i miei funnel che puoi ottenere gratuitamente, ce ne sono davvero tantissimi, qua ne vedi un po', alcuni li ho anche già pubblicati sul marketplace di Cartra. Ecco questo è il marketplace di Cartra, come vedi ci sono di vari prezzi e questi sono i prezzi dei miei funnel per coloro che non sono miei affiliati, quindi se uno ha già Cartra e non vuole essere mio affiliato può comunque acquistare questi funnel e questi sono i prezzi, quindi mediamente 97, 37, c'è un po' di tutto. Invece per i miei affiliati tutti questi funnel sono appunto gratuiti. Ti faccio vedere altre due cose prima che ci salutiamo dopo questo video. In sostanza ti lascio qui sotto il link se vuoi richiedere una mia consulenza professionale avanzata che può essere su Cartra o può essere su qualsiasi altro tool principale di quelli che si trovano nell'ambito online marketing o può essere anche comunque una consulenza strategica, ti posso davvero anche con una sola ora di consulenza darti davvero dei consigli preziosi. Quindi una volta che atterri su questa pagina puoi richiedere la tua consulenza da qua, ci sono i vari prezzi, puoi appunto acquistare la consulenza e prenotare nel periodo o momento che preferisci. Possiamo farla tranquillamente con Zoom, con Skype o se preferisci anche telefonicamente. Un'ultimissima cosa, ti faccio vedere anche, ti metto qui sotto un link col quale puoi accedere alla mia area riservata con più di 50 video gratuiti di formazione di online marketing divisi per argomento. Ti basta inserire il nome e-mail, cliccare su questo pulsante per accedere a tutti questi video. Direi che è tutto per questo video, ci vediamo ad un prossimo video.